Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video. Torniamo a parlare di Grande Fratello Hip perché Alfonso Signorini, il capo del boss della casa, è stato costretto durante l'ultima puntata a leggere un comunicato in cui i concorrenti vengono praticamente ripresi per cosa? Per comportamenti scorretti. Non è la prima volta tra l'altro che lui è costretto attraverso la produzione ad intervenire per poter sempre segnalare situazioni varie in cui ci sono protagonisti sempre loro, cioè i vipponi, e che vanno sempre contro il regolamento. E magari una volta sono le cuffie, una volta sono le telecamere, tutte queste cose qui, oppure cose che non devono fare. Vabbè, ci sono concorrenti che, ad esempio, come abbiamo visto anche nei video precedenti e nelle notizie precedenti, che indossano occhiali da sole, che non rispondono alle chiamate, parlano in lingua che non è l'italiano, chissà se magari potrebbe essere lo spagnolo, ma tante altre cose. Si tratta quindi di una serie di comportamenti che sono vietati dal regolamento e che soprattutto infastidiscono il pubblico da casa che puntualmente ripropone dei video sui social delle violazioni da parte dei protagonisti proprio di questa edizione. Alfonso Signorini lo ha fatto notare in puntata e, durante l'ultima diretta, ha letto questo comunicato, premettendo che lui cerca di difendere i vipponi ogni volta che può, ma in questo caso si oltrepassa il limite. E quando si oltrepassa il limite, socchiavo gli acidi. Nonostante i numerosi richiami del grande fratello, molti di voi hanno continuato a non indossare i microfoni, a indossarli male, oppure gettarli a terra, trattare male i microfoni. Tante altre cose, tipo, si rifiutano di rispondere alle chiamate con il confessionale, continuano a fumare dentro la casa, a indossare gli occhiali da sole e a parlare tra loro in una lingua che non è l'italiano. Il limite è stato superato. Il vostro budget per la spesa settimanale decido che subirà una drastica riduzione. La prossima volta che arriverà un'altra busta, come questa, non ce li metteremo alla spesa, ma verrà preso un altro grave provvedimento. È uomo avvisato, in todo, mezzo salvato. In questo caso parliamo di tutti. Ma tuttavia, nonostante questa ramanzina, alcuni vipponi hanno continuato a comportarsi in maniera scorretta e quindi di conseguenza avvivare il regolamento. È quello che hanno fatto Luca Onestini e Oriana Marzoli, che hanno continuato a parlare lo spagnolo e hanno cercato di eludere le telecamere. Lo si evince da un paio di video che sono stati postati su Twitter dagli utenti che, come è facile immaginare, stanno facendo il giro del web e il pubblico non è per nulla tenero nei loro confronti. Assolutamente sì. Cosa avranno poi da nascondere? Non si capisce. Se uno si nasconde, presumo che non abbia la coscienza pulita. Questo è uno dei tanti tweet che si legge su Twitter, appunto, ma in realtà ce ne sono tanti altri, tipo cafoni, arroganti. Bisogna mandarli in nomination? Almeno uno dei due uscirà. Ah, che schifo! Le prove ci sono per sbatterli fuori una volta per tutte. Ci hanno proprio stufato. Signori, qui l'audience è importante. Cioè, il pubblico porta punteggio al programma e all'audience futuro. Nel senso che, Grande Fratello VIP 7, il prossimo anno significa che ci sarà il Grande Fratello VIP 8. Ma per avere una continuità che sia lineare, bisogna che il pubblico sia sempre soddisfatto, altrimenti comincia a perdere interesse nel tempo. Quindi, credo che siano abbastanza importanti queste cose. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Nel frattempo, Max vi manda un salutone a tutti. Vi auguro la buona giornata e al prossimo video.